ciao ragazzi sono Riccardo bentornati nel mio canale YouTube qualche giorno fa vi ho fatto vedere un video su dei pannelli solari perché come vi ho anticipato sto realizzando un impianto a casa mia per i pannelli solari quindi dotato di inverter che è qua alla mia destra dei pannelli che già vi ho fatto conoscere delle batterie d'accumulo che vi farò conoscere successivamente quindi dedichiamoci a questo inverter un inverter ibrido off grid che ci dà la possibilità di svolgere diverse funzioni e della power mr mi è stato inviato appositamente perché sto realizzando questa serie di video che poi arriveremo a vedere l'impianto completo eccetera ma è una cosa che richiederà tempo quindi noi nel frattempo ci portiamo avanti iniziamo a vedere tutto quello utilizzerò quando arriverà il momento giusto visto che in queste cose io non ci ho mai messo le mani tecnicamente in un impianto vero e proprio voglio che sia fatto tutto bene quindi voglio che ci sia un tecnico supervisionare o maggior ragione a realizzare la maggior parte delle cose allora innanzitutto è pesante e massiccio tutto in metallo qua abbiamo l'etichetta che forse è la cosa più importante quindi è un inverter da 5.500 watt che ovviamente poi trasforma la corrente dei pannelli solari in corrente alternata 230 volt con onda sinuso vitale pura 50 60 hertz può lavorare con dei pannelli che abbadano da 120 fino a 500 volte per quanto riguarda l'ingresso con 18 ampere al massimo quindi regolatevi poi con paralleli seriali eccetera perché il collegamento va fatto in modo da non superare questi ampere ed è un inverter che svolge diverse funzioni perché ci dà la possibilità di ricevere la corrente dai pannelli solari e trasformarla in 230 volte possiamo decidere tramite il pannellino poi tutte le varie impostazioni le potenze sono tutte le regolazioni che vogliamo però ancora io non l'ho neanche acceso quindi di questo dettaglio poi ne parleremo quando sarà montato poi abbiamo anche la possibilità di ricaricare le batterie perché qua abbiamo diverse connessioni che adesso vi farò vedere quindi riceve da pannelli solari ricarica le batterie alimenta casa quando poi non c'è più il sole prende direttamente dalle batterie e continua ad alimentare casa è un inverter off grid quindi in teoria non dovremmo nemmeno fare alcun tipo di dichiarazione però su questo dettaglio vi rimando poi più avanti adesso faccio vi faccio vedere anche la parte bassa quindi tutte le pare connessioni diamo un'occhiata anche al sito del venditore quindi diamo un'occhiata da vicino in alto abbiamo il logo poi mr e qua come vedete abbiamo anche questi due occhielli per poterlo fissare a muro tramite dei tasselli questo invece è il display abbiamo diverse informazioni quindi si accenderanno anche dei led questi invece sono dei comandi sono dei tastini non sono tacce però mi sente il click abbiamo un feedback anche fisico e questo è il tastino di accensione in basso troviamo semplicemente questo pannellino che si può rimuovere con la scritta solar inverter charger questa invece l'uscita dell'aria abbiamo uscita sia sulla parte destra che sulla parte sinistra e l'ingresso dell'aria lo troviamo sulla parte bassa quindi l'aria entra da sotto e fuoriesce sia destra che da sinistra queste sporgenze che vedete qua in basso invece servono per tenerlo perfettamente a parallelo al muro dato che abbiamo questa sporgenza ed evitare quindi che lo stesso rimanga inclinato guardando la parte bassa troviamo tutte le varie connessioni e le ventole di cui vi parlavo che tra l'altro sono delle ventole con regolazione automatica in base a quanto riscalda l'inverter decideranno in autonomia quanta aria far affluire all'interno quindi abbiamo queste connessioni a c in per la corrente alternata a c out qua invece collegheremo i cavi per i pannelli solari e da questa parte abbiamo altre connessioni tra cui rs232 il cavo usb questo è il tasto invece per quanto riguarda il cortocircuito da questa parte invece troviamo il collegamento per collegare le batterie quindi positivo e negativo per avere il nostro accumulo nelle nostre batterie che utilizzeremo quindi rimuovendo il pannellino come vedete accediamo alla morsettiera e qua abbiamo tutti i vari collegamenti con riportato la polarità eccetera dei collegamenti che dovremmo fare da questa parte abbiamo questi fori che ci permettono di raggiungere le viti per collegare e morsettare quindi i cavi che entreranno da qua giù e raggiungeranno questi due morsetti qua in basso all'interno della confezione troviamo anche il manuale di istruzioni un catalogo in cui ci sono diversi modelli anche se a quanto pare aggiornato al 2022 ma sul sito mi pare di avere visto qualcosina comunque ci sono tutte le varie certificazioni tutto quello che è necessario anche per leggere le varie caratteristiche dei vari modelli perché oltre ad avere dei modelli illustrati come vedete qua ci sono tutti i dati tecnici ma come vedete abbiamo diversi articoli propongono diversi sistemi diversi prodotti quindi poi eventualmente dal link andrete a vedere quello che che vi interessa di più il catalogo comunque come vedete è ricco e ci sono tutte le varie informazioni più importanti il morale di istruzioni invece ovviamente si riferisce solamente al prodotto in questione e andando più avanti oltre a trovare tutte le varie immagini per quanto riguarda i collegamenti troviamo anche delle immagini che rappresentano il pannello quindi le varie impostazioni eccetera e come vedete qua leggiamo scritto anche ups perché questo inverter funziona anche da ups tra l'altro 10 millisecondi di intervento quindi utile anche da questo punto di vista si può utilizzare sia con che senza batterie quindi direttamente con l'impianto fotovoltaico infatti vi farò conoscere delle batterie da accumulo però ancora non mi sono arrivate ne ho altre che devo farvi vedere per un impianto più piccolo quindi un impianto 12 volt quindi come vedete da queste immagini si può anche mettere in parallelo io lo utilizzerò singolarmente al 99 per cento non utilizzerò più di un inverter ma poi vediamo eventualmente in fase di montaggio poi come mi organizzo ovviamente farò anche un altro video nel quale si vedranno le batterie si vedrà tutto l'impianto completo per adesso accontentiamoci di questo e del montaggio senza batterie andiamo quindi sul sito del venditore vediamo il prodotto quindi l'immagine quello che vi ho fatto vedere con diverse inquadrature le etichette eccetera troviamo le informazioni quindi 550 watt 220 volt in corrente alternata 48 volt in corrente continua all in one quindi un inverter caricatore 559 dollari sul sito del venditore con uno sconto già applicato del 10 per cento spero di ottenere anche io un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosina poi c'è anche un modulo che si può collegare per poter gestire tutto tramite la rete quindi questo eventualmente un accessorio extra onda sinusoidale pura come vi dicevo e qua tutte le informazioni che vi ho detto poco fa troviamo scritto anche che può ricaricare batterie a litio ferrofosfato quindi lì per più o 4 a gm litio insomma praticamente tutte le batterie incluse quelle a piombo batteria gel eccetera questi sono altri modelli che trovate sul sito del venditore come vedete questo sulla destra per esempio è da 12 volt 239 dollari quindi sarebbe più indicato per le batterie che ho io quindi i modelli come vedete sono diversi e abbiamo diverse opzioni ovviamente come vi dicevo bidirezionale quindi un inverter libido la corrente continua corrente alternata e viceversa regolando la tensione da 230 volt con un 5 per cento di scarto oppure 48 volt senza danno delle apparecchiature elettriche perché l'onda sinusoidale pura serve proprio a questo a dare la sicurezza per tutti quegli strumenti che devono lavorare con una corrente pulita abbiano appunto l'onda sinusoidale pura nell'immagine successiva vediamo che può caricare le batterie lì per più o 4 quindi le classiche litio ferrofosfato oppure gm batterie litio normali insomma praticamente tutte le batterie possibile collegare nei vari impianti fotovoltaici quando si vuole ottenere anche l'accumulo e controller mppt integrato e versatile nella ricarica di batterie a piombo da 48 volt appunto a gm eccetera eccetera come dicevo utilizzando l'energia dai pannelli solari oppure dalla rete oppure da un generatore quindi si può ricaricare può lavorare sia con la corrente alternata di casa che eventualmente anche da un generatore che riesca ad alimentarlo e la potenza massima dei pannelli fotovoltaici come vi ho detto poco fa è da 5.500 watt una gamma di tensione di ingresso in fotovoltaico compresa fra 120 e 450 volt in corrente continua e questo quindi ci offre una buona versatilità perché possiamo utilizzare dei pannelli più potenti che in caso di ombreggiatura forniscano un pochettino di meno ma sempre entro 120 volte 300 400 insomma fino a 500 volte siamo coperte nell'ultima immagine invece specificano semplicemente che è un impianto quindi un inverter compatto che ci dà la possibilità di alimentare praticamente tutto quello che è necessario nelle nostre abitazioni e funge anche da ups quindi in 10 millisecondi interviene quindi ci dà la sicurezza a rimanere sempre protetti e non avere momenti di blackout sulla parte bassa come vi ho fatto vedere tra le varie connessioni abbiamo anche questo tasto il short circuit breaker praticamente serve in caso di cortocircuito per ripristinarlo resettarlo in realtà però questo inverter a diversi sistemi di protezione sia da sovracorrente sovratemperatura cortocircuito eccetera è anche un sistema di riavvio automatico quindi diciamo si protegge in automatico già da tutti questi eventuali problemi che sulla carta dovrebbe essere davvero un prodotto molto valido quindi spero di arrivare a breve al giorno in cui farò tutto l'impianto per farvi vedere pure come si comporta smanettare un pochettino con il display insomma farvi vedere le varie impostazioni e parlarvene concretamente ancora manca il video delle batterie per l'accumulo mancano tante cose tra cui appunto la sequenza di tutto ciò che prevede poi l'installazione i pannelli solari eccetera eccetera quindi rimanete sintonizzati io vi lascerò il link vi lascerò eventuali codici di sconto se riesco ad ottenerli se cercate un inverter ibrido e pensate che questo possa soddisfarvi andate a dare un'occhiata eventualmente acquistatelo vi saluto vi do appuntamento a tutti i prossimi video ma prima ricordatevi di cliccare sul tastino mi piace di cliccare sulla campanella di cliccare anche sul tasto iscriviti ci vediamo a tutti nei prossimi video ciao da riccardo e a presto